No, nessuno, è lui che esce, vai, vedo anche la lampa, è vero, il pesciolino, che stai dicendo, oh oh, cosa arriva? Ecco, great, via, accendete i riflettori, ah, great, tutta la sagola, l'ha consumata tutta, ma quanti metri? In effetti, io ho preso, ti ho preso là, e poi c'è un po' blaiseo, e come tu l'as detto, ho tirato a la parte, ho un po' tourno, ho preso tutti i capi, e a un momento, io sono arrivato a montato, io sono arrivato a montato, ma par contre, io ero in un po' di capo d'or-est, Più All grossi or-est? più寄ize! ChCOMPE C'ho ch helpo di dotre e come direzione, opposta da' parte? Chi po' di do HAVE bisognera battle Cru cents? I Sì, anche se ho dovuto vedere. Ok, super. Io mi chiede. Io mi chiede. Ciao!